A tre settimane, questa è la terza settimana dell'insediamento, perché di fatto dal 23 settembre che siamo operativi in comune, la prima cosa che era, la prima scadenza che avevamo era quella di eventualmente impostare il discorso sulla festa nazionale del Tartufo Bianco, sulla mostra nazionale del Tartufo Bianco, pregiato delle Marche, come diceva l'assessore prima. C'era già una macchina organizzativa in moto, quindi abbiamo tra virgolette aderito, abbiamo avviato, abbiamo mantenuto quello che era stato già un inizio organizzativo dell'evento, che comunque è affidato a un soggetto esterno, quindi senza stravolgere l'organizzazione, senza stravolgere le modalità di svolgimento della mostra stessa, quindi l'approccio è stato quello soft, chiaramente chi già lavorava all'organizzazione aveva già preso accordi commerciali, aveva già venduto spazi espositivi per le quattro settimane, quindi non eravamo in grado di rimettere in discussione un po' tutta la macchina organizzativa che era stata già intraprese, quindi siamo andati avanti su quella linea lì. D'altro canto potevamo stoppare tutto, perché poi eravamo di fronte a un bivio, o stoppare tutto come hanno fatto alcuni comuni, oppure mantenere la mostra nazionale del Tartufo. Dobbiamo tenere, la riflessione che abbiamo fatto è quella di, la scommessa è di tenere insieme due esigenze, quella primaria della salute pubblica con quella comunque delle attività commerciali, che in questo periodo qua gli dà uno sostentamento importante, quindi la scommessa è questa appunto, mantenere insieme queste due opposte esigenze e conquistarci ogni weekend che sarà fatto, quindi un approccio step by step, quindi settimana dopo settimana con un monitoraggio continuo di quella che è l'attuale situazione sanitaria. Questa presentazione è arrivata in domani della rinuncia, la qualagna alla tradizione. La cosa che a noi ci conforta è un territorio di diverso rispetto ad Acqualagna, una conformazione della mostra che è completamente diversa da quella di Acqualagna, non so se avete avuto modo di vedere, chiaramente quella di Acqualagna si svolge nella piazzetta, poi c'è il famoso tendone dove ci sono gli espositori. Da noi c'è un centro storico che è un centro commerciale naturale, diciamo così, quindi è un centro storico che si presta molto alle attività commerciali e la maggior parte della nostra mostra nazionale si svolge all'aperto, quindi gli eventi sono tutti all'aperto e quindi da questo punto di vista qua forse siamo un po' più, il territorio ci agevola un po', ci agevolate un po' in quella che è stata la scelta di avviare la mostra nazionale del tartufo bianco. Abbiamo quattro fine settimana, è vero, ma sono quattro momenti anche diversi dove Comunica è ormai veramente un ottimo partner organizzativo e ha organizzato tutto veramente nella maniera, diciamo, più perfetta che si potesse ottenere e abbiamo come caratteristica il primo fine settimana, abbiamo oltre all'inaugurazione il sabato pomeriggio con la Stark che farà uno spettacolo di luminotecnica in piazza Umberto I che l'anno scorso ha riscosso un grandissimo successo, la prima domenica abbiamo un raduno di auto d'epoca. Poi nel secondo fine settimana, che era il secondo fine settimana caratterizzato dal motoraduno internazionale, i raduni motociclisti, la federazione motociclistica italiana, l'FMI, li ha annullati però sappiamo con certezza, perché poi le strutture ricettive sono tutte piene con le prenotazioni fatte da tantissimo tempo che comunque avremo dei motociclisti e allora non possiamo che poterli accogliere al meglio facendo una piccola festa legata a queste persone, a questi amici che vengono a trovarci. Il terzo fine settimana poi sarà la settimana legata al tartufo d'oro dove eravamo abituati a dare anche agli organi di stampa e di televisione tanti personaggi che venivano a Sant'Angelo che stanno ovviamente, dovremo ridimensionare anche questa manifestazione per ovvi motivi e sarà una manifestazione comunque dove cercheremo di premiare personaggi sia di carattere politico per ridare un po' quel senso politico che Sant'Angelo di Vado deve avere nell'ambito anche della promozione del tartufo, della valorizzazione, ma personaggi dello spettacolo che hanno saputo aiutare la regione Marche. Quindi andremo un po' più sullo specifico andando a ringraziare coloro che hanno reso la nostra regione la bella regione nella quale viviamo. Il quarto fine settimana infine sarà il fine settimana della fiera del tartufo dove la fiera del tartufo è una fiera non diversa dal resto, ma una fiera merceologica con degli ambulanti, degli stendisti che vendono generi di ogni tipo. E nei quattro fine settimana da segnalare il secondo fine settimana il 18 ottobre con l'inaugurazione della mostra Agli Ori di Sant'Angelo di Invado fatta da Don Davide Tonti che è una mostra che parla di una tecnica antichissima di realizzazione di manufatti in oro con la tecnica degli Etruschi, una tecnica che si è tramandata in maniera misteriosa perché non si sa perché questa situazione sia andata avanti nei secoli, ma di fatto Sant'Angelo di Invado era l'unico paese al mondo in grado di poter realizzare oggetti con questa tipologia di manifattura. E una situazione che voglio evidenziare e anche mi sento di ringraziare per il loro apporto è la Proloco di Sant'Angelo di Invado che fa la seconda edizione di Arte al Cubo che è un contenitore di arte, cultura, sapori e quant'altro e lo faranno in Piazza Pio XII, quella che noi chiamiamo Piazza del Duomo. Grazie a tutti!